Nel caso delle squadre di calcio senz'altro sanno perfettamente come utilizzarli su Facebook e poi mandare contenuti multimediali con molta più facilità e comunque fotografie, immagini, creare più un effetto community, mentre invece su Twitter è più un rapporto, quello che chiede l'utente è più un rapporto one to one con la celebrity piuttosto che con la società. Ma senti Barbara, l'altra tabella che stavamo vedendo in grafica, che raggruppava tra l'altro i club italiani, mi sembra, ma anche quelli stranieri, qui c'è il numero di utenti? Eccola, questa è interessante perché abbiamo messo a confronto un po' le performance sui social network e su internet delle squadre italiane e poi ovviamente dei più importanti club europei. Vediamo come si comportano le italiane, l'Inter sui social network è arrivata per ultima e quindi ha ancora dei numeri più modesti, su Facebook non raggiunge ancora i 2 milioni di amici, su Twitter è a 215 mila, mentre invece le altre squadre sono molto più avanti, abbiamo visto i 4 milioni e mezzo del Milan, eccetera, della Juventus, scusate, i 12 milioni del Milan, sempre su Facebook. Dopodiché, se inseriamo in questo confronto, in questa sorta di sfida delle società, dei nostri club più importanti, anche internet, vediamo che l'Inter si riprende un posto, si riprende il primo posto. Spiegami bene questa, che mi piace questa grafica. Questa grafica che stiamo vedendo, questa grafica rappresenta un po' la storia sui social, non un po', rappresenta la storia sui social del Milan, una storia recente perché inizia nel 2009, insomma nel 2011, questo era il 2011-2012, dove il Milan è entrato prima su Facebook, su Twitter e poi adesso sta entrando anche e utilizzando anche altri social e ci sono rappresentate, si vedevano poco fa, i vari eventi importanti che sono stati fatti, da live chat con Gagliani a un recente hangout su Google Plus con Massaro, fino a quello di venerdì su Twitter di Pato. è molto interessante perché comunque si vedono sia i numeri che appunto gli eventi e si può capire come questi eventi che una volta si sarebbero organizzati in altri contesti, non in altre piattaforme, proprio in altri contesti fisici, reali, adesso possono essere realizzati in maniera reale ma poi di fatto virtuale su diverse piattaforme. Dicevamo dell'Inter che è prima per quanto riguarda il sito in termini di utenti unici e in termini anche di pagine scaricate eccetera. L'Inter ha una storia molto importante sul web perché è stata la prima società di calcio ad avere un proprio sito già nel 1996 e a crederci veramente, a investirci risorse importanti. l'ha sempre gestito in house e questo ha fatto per molto tempo la differenza, probabilmente dal punto di vista di contenuti ha tuttora un valore aggiunto. E quindi diciamo che l'Inter si è concentrata per molto tempo. Ecco, questa era la pagina in cinese che è un altro aspetto interessante perché poi le vie che le società scelgono, come anche le aziende, per utilizzare i social network sono diverse e questo anche che ci fa vedere come alcune vincono su Facebook, altri vincono su web, altri vincono su altri social. L'Inter per esempio è attiva in Cina ovviamente perché ormai è imprescindibile e ha la pagina del sito tradotta, non è semplicemente tradotta ma è in pratica rieditata da un partner editoriale che è Tyson. Ecco, perché ogni tanto sui siti la parte tradotta, parlo così magari cercando anche altre squadre in Europa quando si vuole sapere qualcosa di più sulle euro avversarie, le parti tradotte sono sempre leggermente magari non aggiornate, invece questa è super in tempo reale. Sì, loro cercano di tenerla molto aggiornata in tempo reale e soprattutto con un partner editoriale e non semplicemente con un'agenzia che traduce le notizie. In questi mesi così distanti da noi ci si appoggia a partner che sono magari di una caratura diversa dalla casa madre, nel senso che l'Inter che è così strutturata al suo interno per gli aspetti web poteva anche scegliere di appoggiarsi a un'agenzia semplicemente per la traduzione, invece no, è in mano a un editore in modo che ci siano anche dei redattori e quindi nella tabella, se possiamo rivedere la tabella quella del confronto tra le squadre italiane ed europee, è anche interessante vedere quello che succede all'estero, abbiamo dei numeri completamente diversi da quelli italiani, quindi i milioni di utenti su Facebook. che ne ha più di tutti. Ne ha più di tutti, è chiaro che il bacino, anche per le nostre squadre, ma il bacino di utenza per queste è un bacino internazionale, è allargatissimo, tant'è vero che ci sono squadre che sono più forti all'estero che non nella performance interna. Lo United non usa Twitter? Ma non lo usa, è un po' un mistero, non siamo riusciti a capirlo, nel senso che ci sono profili dello United, ce ne sono sei o sette, qualcuno è dichiaratamente unofficial, qualcuno si dichiara ufficiale, però nessuno ha l'imprinting di ufficialità che Twitter dà ai siti ufficiali, per cui l'abbiamo considerata come una scelta del club di non avere un profilo ufficiale, evidentemente usano di più Facebook. Chiaramente però questo modo di approcciarsi si avvicina molto di più ai tifosi più giovani, che hanno un'età di un certo tipo. Intanto l'età è proprio tipica del mezzo e quindi chiaramente è quello. Stanno crescendo di età i tifosi che seguono le squadre sui social network, sono caratterizzati tutti trasversalmente dal fatto di essere prevalentemente maschi e prevalentemente senza figli, questa cosa è abbastanza divertente nelle analisi che abbiamo visto. Maschi e senza figli. Beh, insomma, credo che sia legato alla giovanità, ecco, quindi è abbastanza normale. Però sono dati interessanti poi per individuare il target, per poi decidere che cosa e come comunicarlo. Ecco, questo vedi, deve essere uno di quelli... È un profilo del Manchester, ma ripeto, senz'altro ci sono tra questi, noi seguiamo, ci sono dei profili che seguiamo di più di altri, ritenendolo più vicino alla società, però anche i numeri non sono significativi di questi profili Twitter del Manchester, quindi significa proprio che non sono quelli, si dividono un po' la torta dei tanti tifosi senza essere nessuno di questi quello veramente ufficiale. Ecco, un dato anche interessante che abbiamo visto facendo un po' di studi su questi nuovi mezzi è che anche nell'ultima finale di Champions League abbiamo avuto il boom sui social network, quindi la UEFA utilizza molto anche le piattaforme dei social per comunicare, soprattutto in quest'ultimo anno lo ha fatto e l'ultima finale tra Bayern e Chelsea è stata seguita, commentata su Twitter da circa 1.200.000 tweet, che sono un numero considerevole, solo la finale, quindi bisogna comunque a tutti gli effetti, al di là di considerarlo un fenomeno di costume, ma proprio tenere bene a mente per chi si occupa dei temi della comunicazione in maniera professionale, che questi sono proprio mezzi di comunicazione a tutti gli effetti che entrano nella pianificazione delle attività delle società come delle aziende. Perfetto, grazie Barbara, allora ti aspettiamo prossima occasione per continuare a parlare di questi mezzi, ma proprio di un modo di comunicazione davvero molto interessante, chissà aspettando qualche altro tweet particolare, che magari arriva qualche comunicazione da calciatori, ma tanti sportivi, non solo i calciatori, tanti sportivi ormai comunicano così. Grazie ancora Barbara Ricci. Grazie Marina, grazie a voi, buongiorno.